Ciao ragazzi, qui l'Alex, bentornati sul mio canale. Ed eccomi qui ragazzi oggi con un altro episodio sul let's play di Crash Bandicoot Insane Trilogy. Ma quest'oggi ragazzi inizieremo ufficialmente Crash Bandicoot 2. Quindi abbiamo giocato tutto insieme il primo capitolo. E raga, stupendo, ma ora si fa sul serio perché il 2 e il 3 sono qualcosa di spettacolare, ancora più del primo. Quindi Crash Bandicoot 1 l'abbiamo terminato e completato ragazzi con bestemmioni a go-go. Ora... Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Oh sì! Ragazzi ci si incomincia Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Nuova partita. Mamma mia. Cristalli. Ma certo. Ma dottor Cortex, per raggiungere la massima potenza non basta il suo cristallo. Ci servono i 25 cristalli normali sparsi sulla superficie. Ma come faremo a raccoglierli? Non abbiamo più agenti sulla terra. Pozzo! Pensi che non sia al corrente della situazione? Se non abbiamo più alleati sulla superficie, dovremo trovare un nemico. Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. La mia batteria è andata. Renditi utile e portamene una nuova, fratellone. Mamma mia ragazzi, si incomincia l'avventura. Qui c'è la nostra Coco, la nostra sorellina. Si incomincia così ragazzi, l'avventura su Crash Bandicoot 2. Allora, come ben vedete abbiamo già questa, che è la scivolata, ed è una cosa in più. E anche la possibilità di accucciarci. Che nel primo non potevamo pure... Cioè, non potevamo farlo. Ok. Mamma mia ragazzi, che bello il 2. Qua è il 3 ancora di più ragazzi. Cioè, ogni capitolo ragazzi, cioè, diventa sempre più bello Crash. Ok. Questo non è proprio un livello ufficiale, dovrebbe essere nulla di difficile. Ok. Partiamo con 5 vite. Uh! Attenzione! La stanza del teletrasporto, oddio sì! Qua c'è ragazzi la camera con tutti i livelli e con tutti i mondi. Cioè, non è più a isole. È tipo a camere interspaziali, è una figata pazzesca ragazzi. Eccoci qua. Che figo! Oddio! Cortex! Crash Bandicoot, benvenuto. Mi scuso per il rozzo trattamento che ti è stato riservato. Ma temevo che un invito scritto non sarebbe bastato. Mi serve il tuo aiuto. Intorno a te ci sono 5 porte. Ciascuna nasconde un cristallo. Simile a questo. Portami i cristalli, Crash. Per ora è tutto. Ci rivedremo presto. E ragazzi, qui iniziano i cristalli. Mamma mia. Che figa sta stanza. Ragazzi, vedete? Ogni portale è un livello praticamente. Turtle... Turtles... No, Turtle Woods. Snow Go. Hang, Hate. The Pits. E Crash Dash. Ragazzi, qua c'è Zlugo. Qua c'è la neve. Vabbè, facciamo in ordine ovviamente. Vorrei fare tipo un mondo episodio. Perché ragazzi, questo qua è un mondo. Praticamente, con tutti i livelli. Poi c'è a piani, se andare in alto, c'è un altro mondo con tutti gli altri teletrasporti. Dunque, ragazzi, entriamo nel primo. Turtle Woods, vai. Che figata, mamma mia. Tanta roba, ragazzi. Turtle Woods. Tratta bene le casse e otterrai la gemma... Una gemma speciale. Tratta bene, eh. Cioè, perché se è stato male non mi danno la gemma. Cioè, perché ne do lascio alle intatte. Eccoci, che figo, raga. Anche graficamente mi sembra ancora più migliorato del primo. O forse non mi impressiona. Ma è uguale, però. Boh, vabbè. Che figo, raga. Piove. Vai. Qua c'è l'acqua. Oh. Affondiamo, sono tipo sabbia mobile. Oddio. Ok, i primi livelli dovrebbero essere, raga. Easy. Ok. Tanto possiamo uccidere anche con la scivolata adesso, eh. Col cerchio, ricordiamocelo. Ok, 92 mele. Quindi ho quasi una vita in più. Quantootto. Cos'è questa? Wow. Cos'è? Un bonus? Raga, possiamo fare la panciata, vedete? Che figata. Raga, qua si inizia a ragionare a livello di... Cioè, c'è un... Già da Crash 2 è un casino di innovazioni. Ok. Vai. Minchia tartarughe con i pungiglioni. Che cazzo? Ma posso uccidere queste? Penso di sì se le salto sopra. Infatti. Checkpoint. Ottimo, sì, raga. Penso sia tipo un livello bonus questo. Oddio. Cos'era? Perfetto, raga. Non vedo l'ora di iniziare il 2. Wow. Oddio, le nitro. Raga, qua iniziano ad esserci le nitro. Che fighe. Perché iniziano come le TNT, solo che esplodono al minimo tocco. Cioè, basta che le tocchi, raga, una volta esplodono. Io qua esploderò in laver sicuramente, guarda. Lo sapevo. Menormale che c'avevo Aku Aku che mi ha protetto un po'. Qua faccio a prendere quel. Cos'è sto coso? Oh mio Dio. Che cazzo sono sti cosi? Non me li ricordavo. Cosa devo fare? Boh, vabbè. Aspetta. No, boh, non lo so, ragazzi. Si, si, si. Ok, se sapete cosa... Cosa saranno quei... Quegli struzzi. Cosa ho fatto? Boh, rimango sotto terra, va bene. Dunque, sapete cosa saranno? Ditemelo. Ok. Che figata, raga. E ritorniamo al livello. Oddio, non era proprio un bonus, perché se no apriva la scritta, penso. Checkpoint. Ok, qua tranquillissimi, proprio. Eh, questo è il bonus. Infatti, bonus. Trofeo, la strada meno battuta. Che figo. Bam. Ok. Fatto. Una vita, raga. Abbiamo adesso sette vite? Esatto. Scivolata. Che figo. Ok, niente di particolarmente difficile questo livello. Oddio, come mi diverto. Fighissimo. Oddio. 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 Ah, le talpe, me le ricordo. Il fungo. Me lo ricordo, raga, questo. Che figata. Eh, ok. Ok. Ma te ti salto così. Tante melucce. Ok. Ecco il cristallo, raga, quanto è figo. Io da bambino ne ho fissato questi cristalli. È ancora meglio il rumore quando lo prendi. Che figata. Oddio. Ok. Fine del livello. 54 su 62. Ma, raga, quello dei bonus non ho preso. Fine primo livello. Mamma mia. Che figata. Troppo bello, raga. Troppo, troppo bello. Poi, sicuramente anche qua sclereremo un bordello, eh. Adesso, il primo mondo forse è un po' easy. Non lo so, però. Quello della neve, raga, non me lo ricordo. Adesso ci dovrebbe essere il livello della neve. Eccoci. Ah, si è creato fuori dai pantaloni. Mamma mia, cristallo. Kotax ancora? Bel fatto, Crush. Sapevo di potermi fidare. Ora apri le orecchie. Questi ologrammi non durano molto. Durante le mie ricerche ho scoperto una forza sconosciuta che minaccia il nostro mondo. Solo i cristalli possono contenerla. Se in gioco il futuro del mondo, devi assolutamente trovarli e portarmi. Mai fidarsi di Kotax, ma purtroppo Crash si fida. Ma penso che ci sta solo usando, raga, vabbè. Snow go, ragazzi. Prossimo livello, vai. Snow, ragazzi, qua ci dovrebbe essere la neve. Prontissimi. Sarà una figata. Eccoci qua. Che figata. Oddio. Raga, ma che bello è. Wow. I pinguini. No, bellissimi. Il ghiaccio. No, veramente è bello il livello qua. Ok. Oh, madonna. Oh, madonna. Oh, madonna. Aiuto. Oddio, le nitro. Ragazzi, qua andiamo molto. Qua c'è il ghiaccio. No, no, crash. Ah. Minchia, è difficile. Ok. Non so se le nitro le conta come le casse. C'è fonte, comunque. Quanto è carino il pinguino. Oh, madonna. Ok. Ciao. Ok. Ma che cazzo. Oddio, me ne ero accorto. Normale che avevo. Ok, poi dobbiamo accovarciarci. Guarda che figata. Mamma mia. Ok, qua c'è una foca. Ma è impossibile se ho passato se... Ah, con la scivolata forse devo farlo. Cazzo. Ragazzi, devo abituarmi perché in cascio non c'è la scivolata, quindi devo abituarmi un po' a usarla. Cioè, ricordarmi di usarla. Beh, guarda, proprio là sono andato. Che deficiente. Ragazzi, incomincia. Ok, abbiamo otto vite, ah. Ok. Poi c'è il nitro, stiamo a... Si parla adesso da un deficiente. Ragazzi, sono proprio andato addosso alla nitro, cioè neanche a schivarla. Forse devo saltarla così. Perfetto. Ok, di qua c'è il bones, raga. Yeeeh! Oddio. Oddio, qua c'è il ghiaccio, però, eh. No! Madonna! Ok. Ghiaccio. Eh, porca p***a. Yeeeh! Ragazzi, è bastardo il ghiaccio, eh. Non sembra, ma... È veramente stronzo, eh. Ti fa saltare meno, ti fa saltare. Ok. Bonus finito. No. Ma quanto sono scemo, ragazzi. Uno a dieci. Ma spiegatelo. Vai. Vai. Check point. Oh, è tutto ghiaccio qua. Eh, vabbè, raga. Sto facendo gli errori perchè sono stupido Boom Cristallo Ok E qua? Madonna 54 su 74 20 casse E vabbè raga livello completato Le morti che ho fatto ragazzi sono state perchè sono stupido ok Perchè Era facile il livello non era per niente difficile Solo che raga con il ghiaccio Le scivolate dovevo ancora un po' abituarmi Perchè ero abituato appunto a crash 1 Che le scivolate non c'erano e il ghiaccio non c'era Era tutt'altra cosa Cioè il ghiaccio c'era solo sul ponte Ok Snow go Abbiamo vomitato ok Perfetto raga Quel che interessa a noi sono i Qua? Hungry Hungry Ma cos'è? Dicevo quello che interessa a noi sono i cristalli viola Le gemme se ce n'è opportunità le prendiamo Ma ragazzi tanto parlo un po' bassa voce tra l'altro perchè è tardi E' tipo luna di notte E comunque le gemme ragazzi sono per finirlo al 100% E noi finirlo al 100% non interessa Cioè non interessa giocarlo divertirci E giocando tutto appunto Cos'è qua? Oddio livelli con l'acqua Anche qui Quale è? Che figo Cos'è quel coso? Stavolta è un piranello geneticamente modificato Ok ma qua bisogna un attimo Vai Checkpoint Cos'è? No Che figo Oddio c'è anche il turbo Per scattare Ok ragazzi qua possiamo farcela a fare la gemma In teoria No che figata ragazzi Oddio qua come fa? Ok no Ce l'ho fatta Che figata ragazzi Ok bonus Vai Oddio ma c'è il tempo Che figo Sto bonus Ok Qualche ca... Ok devo far così Due Tre Quattro Cinque Adesso andando molto con calma Perfetto Ottimo Oddio l'ho ipovolta mia Ma che No C***o Allora raga con calma Ok Cristallo Non mi sento che si incazzano sti qua Dove un po' Ancora lo scooter Oddio Ok ce l'ho fatta Oddio qua come faccio Così Yes Che figata ragazzi Sta scutellino Wow Ok 34 su 74 Ma dove Raga io ero convinto di averle prese tutte Vabbè Va bene Mi sono illuso Ok Eccoci qua Dall'orecchio Oddio Cortex ancora Cosa vuole mo Tre cristalli Niente male Vedo che inizi a prenderci la mano Devo risparmiare energia Ci risentiremo quando avrai trovato il quinto cristallo Ok Anche se non vorrei risentirti Ah salviamo ragazzi la partita ancora Che figo Ancora non l'abbiamo fatto Salva Salvataggio Ok De piz De piz Ok Prendi bene la mira E rompi le casse chiusi Con una panciata Ragazzi cosa sarà questo Cioè quale sarà questo livello Scopriremo tra poco Oh Ok Ok Che figo In mezzo La foresta Ma te che illuminazione Ragazzi Cioè La grafica Cioè le luci Sono bellissime Che cazzo è qualcosa Madonna Ok Madonna un altro Ma cos'è un'opterodattina Ok Ok Porca Troviamo preso stavolta Dannato Checkpoint 1 2 3 4 4 5 Ok Yeeeh Ma con una scivolata dice che muore Non penso Ah Fottuto ragazzi Era grande Oh madonna mia Adesso a sinistra Ok Il sinistro dice A sinistra Andiamo a sinistra Andiamo sempre a destra Andiamo anche un po' a sinistra Perfetto No Cazzarola Checkpoint Un altro Eh Sto cacchio Quante mele Cos'è Ok Cosa ho fatto Cosa ho attivato Non lo so Porca C***o Quante ce ne sono Sti cosi C'era il cristallo lì No ragazzi Con la scivolata Non l'uccido Ci ho voluto provare Ma Completo fallimento Ma devo saltarli Questi qua Devo saltarci sopra Al tempismo giusto Ma che c***o Cielo di m***a Dai Dove saltare molto prima Ragazzi Oh ma ha rotto Ragazzi iniziamo Iniziamo Oh Oh Va a c***are Ecco il cristallo Ottimo Ok Cheekpoint Un'altra arena qua Che è le calde Perfetto Bonus Cos'è Cosa è Sta c***a Ok La rompo Con la fanciata Ok Devo un attimo Questo è come la rompo Aiuto Ok Fatto Ecco Iniziamo a sclerare Questi saltini Di merda Allora Uno Due Tre Quattro Cinque Uno Due Tre Quattro Uno Due Tre Quattro Cinque Perfetto Boom Attenti questa Questa qua Beh Ok Una vita Ma La prenderla Importantissima Olè Finito Grazie a Dio Andiamo Che strano Abbiamo preso Quanto manca Al fine del livello Bello lungo Questo Ok Questa devo stare attento Perfetto Perfetto Finito finalmente 42 su 53 Perfetto 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 Olè Perfetto Ragazzi manca l'ultimo Eh sì Manca l'ultimo livello Del primo mondo Crash Dash Cioè Quale sarà mai Ragazzi Questo livello Lo scopriremo Tra pochissimo Ok Dov'è l'entrata No Dimmi che è quello che penso io La palla gigante Pure nel 2 C'era Non mi ricordavo Sta cosa Oddio Sì C'è anche qua Aiuto Ah Veloce Veloce Crash Veloce Queste cose Mi ricordo che non devo prenderle Checkpoint Mi pare che erano tipo bombe Che saltina Cioè Ti rallentano Oh madonna Lo schifate ragazzi Per un pelo Sono sincero Checkpoint Stiamo andando molto bene ragazzi Madonna Che ansia E le nitro pure Allora ragazzi Stiamo seminando però Madonna Ok cristallo Qua c'è il bonus però Lo voglio assolutamente fare Scusate ho tirato un pugno Al microfono Per l'atmosfera Quale Oh mio dio Lo sapevo Io Ragazzi In queste cose Sono una merda Io nel prendere le casse Quelle lì Tipo fatte Così in aria Sono una merda Non sono mai stato capace In vita mia A farle Quelle cose lì Riproviamoci Cercando di farlo ma 1 1 1 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 5 5 5 6 E vai 2 vite Buono Cos'è sta cosa Wow Wow Che figo Il turbo Ok Vai Madonna Le bombe Mettono un'ansia Ah 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 No Porca Dai crash Dovevo farcela Vai 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 Ma porca sta buca di Perché non riesco a saltarla Perché Accoglio Ce l'ha preso Ho due Ho due Pia Raga Mi sto incazzando Sta buca del C***o Una buchina È che c***o Però È una buchina Salta Oh Oh Che c***o Quanto duro Sto livello Poi raga No La vita C***o Meglio Così Ci riprendiamo La vita Meglio Meglio Ok L'ho preso L'ho preso L'ho preso Oh Finalmente Gemma Sì E vai La gemma Ragazzi Non ci credo Prima gemma In crash 2 Vai così Che soddisfazione Ragazzi Non potete capire Non potete proprio capire Ragazzi C'è la soddisfazione Eccoci qua Cristallo E Gemma Guarda come contento Il ballo Che figo Che spettacolo Ecco Cortex Ah no Il dottore Pazzo Ancora lui Stai aiutando Cortex A ritrovare I cristalli Eppure Eccoti qui Con una Gemma Interessante Beh Crash Le cose Stanno così Gli alleati Di Cortex Sono miei Mici giurati Quindi Farò tutto il possibile Per Fermarti Se davvero Vuoi salvare Il mondo Devi Raccogliere le gemme Non C-c-cristalli Trova tutte le 42 gemme E le userò Per sparare Un 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 raggio laser Che distruggerà Cortex E la sua stazione Spaziale Ah Fino ad allora Ti impedirò Con tutte le forze Di raccogliere I cristalli Ok Tutto sto casino Perché abbiamo preso Una gemma Ok 42 livelli Ragazzi 42 gemme Porca troia Non li prenderò mai tutti Ripper No Ancora Ripper Ma veramente Oh madonna Ragazzi Quindi sono 6 livelli Ogni mondo Ogni stanza Minchia Ancora questo qua C'è Oh madonna Cos'è Un po' cambiato Un secchione È diventato Sempre pazzo è però Oh madonna Cos'è Starro Cos'è Ho capito Ho capito Devo colpirlo Lì Ho capito Aiuto Le nitro no 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 Mamma Ok Per fortuna È più facile Rispetto al primo crash C'è Con le nitro Funziona Sono più potenti Giustamente Le nitro No no Ha fregato Raga Di un attacco E qua cerco di Oddio Ok raga Devo schivarle Le nitro Bastardo Bastardo Ok Calmi Ce l'ho fatta Forse Bam Fatto Grande Che faccia Professore polverizzato Trofeo guadagnato Tieri Perro Quanto ti odio Sei il boss Che odio Di più in assoluto Veramente Cioè Mi sei troppo sulle palle Veramente Non sopporto Ragazzi Non sopporto Non lo sopporto Ok Eccoci qua Quindi Ora che abbiamo fatto Questo In teoria A parte salvare Ragazzi Perché io devo salvare Ok Salvataggio Perfetto Forse dobbiamo andare qua in mezzo Su Infatti Infatti Ma che figo E qua ragazzi Nel prossimo mondo Tutto ghiacciato Che figo Guarda con la mano Fa giù Che figata Ragazzi È tutto ghiacciato Cosa ridi A quanto pare Ripper Roo Non è alla tua altezza No Ma torniamo a noi Dovremo raccogliere Molti cristalli Concordo Concordo Crash 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 stai facendo una Grande cazzata Oh c'è Sì Berit C'è l'orsetto Qua me lo ricordo Il mio più caro Il vecchio ricordo Da bambino Di Crash L'orsetto L'orsetto polare Che bello Ragazzi Sto mondo Dovrebbe essere una figata Comunque facciamo Un mondo Ragazzi Ogni Ogni episodio Praticamente Ah Sì volevo Ok Posso cambiare Crash In questo momento Comunque ragazzi Stavo dicendo Facciamo un mondo Ogni episodio Quindi ragazzi Per oggi è tutto Mi raccomando Lasciate un bel like Lasciate 10 like Per il prossimo episodio E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao